Buongiorno, quando si parla di conto economico e soprattutto per quanto riguarda la parte IT e tecnologica c'è un po' da mettersi le mani nei capelli, soprattutto in questo periodo, nel senso che la tecnologia, l'e-commerce in generale, traina moltissimo le scelte aziendali, ovviamente anche sul retail, quindi ha un impatto molto molto importante sul retail, quindi sulle scelte che si fanno in negozio, sulla logistica, sul customer service, quindi diciamo che il buon vecchio cost of ownership ha perso un po' il senso, nel senso che non si può più ragionare a compartimenti stagni, nel senso che la piattaforma costa questo, ma che impatti ha l'introduzione di una nuova tecnologia a livello aziendale e che impatti ha a livello di conto economico cross dipartimento, perché quello che vedo io e che è un po', insomma, quello con cui combatto spesso, è proprio il fatto che ci siano dipartimenti che hanno dei loro budget, dei loro conti economici, ma che veramente ragionano solamente per loro stessi, mentre secondo me il game changer nel futuro sarà quello di ragionare, almeno per Philip Klein, spero che qualcuno già lo faccia, ragionare a livello globale di azienda e vedere quali sono gli impatti che ogni scelta ha su tutta la filiera, che può essere anche il cambiamento di un magazzino, alcuni improvement con l'intelligenza artificiale, soprattutto anche a livello di logistica, che è una cosa che stiamo guardando attentamente, e su tutto l'ecosistema aziendale, che è quindi e-commerce, il retail, customer service, e quindi è tutto fortemente connesso, nel senso che una spesa fatta male, lato CRM, non lo so, può avere dei grossissimi impatti a livelli, fino al customer service, quindi alla logistica, quindi diciamo, io perché non sono una persona realmente di business, inteso come conti, eccetera, però vedo che mi scontro spesso, proprio perché c'è questa tendenza a ragionare per dipartimenti e ragionare per budget fissati a livello di organigramma aziendale, che secondo me è molto limitante, perché si perde completamente la visione globale e si perdono delle opportunità. Cioè bisogna ragionare un po' più per processi interdipartimentali? Sì, esatto, assolutamente sì, perché una spesa fatta bene, che ne so, proprio all'inizio della filiera sul PLM ha dei grossi vantaggi fino all'e-commerce e fino al customer service, è un esempio proprio che ti posso portare, rinnovare o rinnovare i processi a livello di PLM, proprio quindi come software banale, ci ha permesso di ridurre lato e-commerce del 15% ai resi. Quindi, insomma, dov'è il conto economico? Di chi è quel budget? Il budget è della produzione, che diciamo è l'owner del PLM come software, o è un budget dell'e-commerce che ha guadagnato perché la produzione ha fatto un investimento? Cioè, insomma, non si può più ragionare unicamente per ripartimenti. Questa, secondo me, è la sfida più grande ed è molto difficile. Grazie per la visione! Grazie per la visione!